Provecati sui suoi gentili, vi ripiego il Vittor del Vizio, che piacere su tutti tu, sarai e poi fai, che le piacere del Signore. Siano ripresi nel mio cuore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetta il frutto del tuo Signore, Gesù. Santa Maria, Pagliudio, prego il Vittorio, per te sei benedetta tra le donne, e poi fai, che le piacere del tuo Signore. Grazie. 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 sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga in cuoregno, sia parta la tua volontà, come in cielo così in terra. Grazie oggi il nostro Padre, tutti i anni, che mettiamo i nostri tempi, come noi li mettiamo ai nostri divitori, e non ci usurre l'indicazione, ma in maniera della Gesa di Natale. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è contento, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego e prego e prego e prego, adesso è il giorno della nostra morte e prego, amici. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.